Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella e ora faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte, ma prima di iniziare faremo una preghiera di protezione psichica per connetterci anche con le frequenze dell'Arcangelo Michele. Bene, iniziamo. Invoco la Divina Presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono la lettura. Invoco te Arcangelo Michele, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura, rabbia, gelosia, competizione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio. Arcangelo Michele ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità dentro di noi e fuori di noi, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente padre e madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, vediamo un po'. Cosa hanno da dirci gli angeli? Allora, la prima carta, gli angeli dell'amore ti stanno aiutando. Quindi qua ci sono nuovi incontri o delle relazioni, magari d'amore che stanno già nascendo. Proteggi te stesso, ok? Terza carta, tu e tui cari siete al sicuro. Queste sono delle carte che riguardano un po' il percorso spirituale. Ecco ne una, vediamo un po'. Trasformazione, ok? Seconda carta, risveglio spirituale. Eccola qui caduta. Terza carta, separazione. Una separazione di guarigione. Vai dentro di te. Questo ha a che vedere anche con la persona che si ama, che si vuole bene o un proprio caro. Poi andiamo a vedere nello specifico. Ora vediamo. Partnership. Ok, bene. Quindi è interessante perché ci sono veramente le carte di un'unione, un'unione o spirituale o lavorativa. Intenzione, ok? Qua riguarda più l'aspetto energetico. Bella questa lettura, molto in te, molto completa, diciamo. Ok? Terza carta, vediamo un po'. Assolutamente godi la vita con leggerezza, ok? Assolutamente c'è leggerezza nella tua vita. Vediamo un po'. Prendi con leggerezza la tua vita. Allora, gli angeli del cuore ti stanno aiutando in questa situazione. Molto probabilmente hai chiesto aiuto, aiuto spirituale agli angeli nelle tue preghiere per aiutarti in questa situazione sentimentale che già stai vivendo o perché vorresti trovare la tua anima gemella. Assolutamente le energie sono... hai iniziato questo percorso di preghiera, di chiedere all'universo di manifestare la persona giusta per te. Diciamo che si sta muovendo un'energia in tuo favore, va bene? È molto importante, dice l'Arcangelo Michele, che tu proteggi te stesso. Come ti devi proteggere? Attraverso la preghiera, chiedere aiuto, guida l'assistenza all'Arcangelo Michele per proteggerti in questa relazione per te che già hai iniziato, hai intrapreso una relazione con qualcuno o per te che magari vuoi manifestarla nella tua vita, va bene? Questo non comprometterà la tua situazione familiare, è giusto per te amare ed essere amato, stai tranquillo, stai tranquillo, la tua famiglia è al sicuro, i tuoi cari sono al sicuro, è giusto per te amare ed essere amato, è giusto per te ricevere amore. Quindi pensare alla tua vita sentimentale non va a togliere niente ai tuoi cari, quindi è giusto sentire l'esigenza, il bisogno di trovare una persona al tuo fianco, non è sbagliato, non sentirti in colpa né nei confronti dei tuoi genitori, se ad esempio hai dei genitori anziani né nei confronti dei tuoi figli che magari sono già grandi o che comunque tu, a cui tu vuoi bene, riesci a seguire comunque, hai bisogno però veramente di avere una figura al tuo fianco, quindi questo è un desiderio della tua anima, non dell'ego, quindi vai avanti, non fermarti, vai avanti senza paura, ok? È un periodo appunto di trasformazione, c'è una grande trasformazione, assolutamente, però praticamente c'è un conflitto, dice l'arcangelo Michele, tralamente il cuore, nel senso che il tuo cuore appunto ti sta guidando nella direzione dell'amore, la tua mente dice sbagliato, forse dovrei pensare più a questo piuttosto che a quello, invece no, ascolta il tuo cuore perché il cuore ha sempre ragione, la testa, la mente, mente, la mente è guidata dall'ego, dovresti tu attraverso il tuo cuore, attraverso la guida interiore a far sì di poter avere pensieri creativi, pensieri costruttivi e non pensieri distruttivi di paura che limitano la voglia di amare e di essere amato, ok? Allora c'è un momento, c'è un grande risveglio spirituale dentro di te, stai sentendo la chiamata della tua anima che sta urlando, cerca di ascoltare, non portare l'anima ad urlare, cerca di ascoltare quella vocina interiore che ti sta guidando in una certa direzione, verso una certa persona, verso un certo lavoro, verso un cambiamento e una trasformazione in atto, quindi abbi il coraggio di apportare i cambiamenti necessari nella tua vita per poi essere felice, perché se vuoi essere felice non puoi continuare a fare le cose che hai sempre fatto, devi portare a portare dei cambiamenti, quindi fa sì che questi cambiamenti possano arrivare nella tua vita in maniera spontanea, naturale, non forzare nulla, non contrastare gli eventi, fa sì che tutto fluisca liberamente, ok? Tra te e questa persona di cui stavamo parlando c'è un momento di separazione, o perché questa persona abita in un'altra città, o perché si è spostata per lavoro, o perché vive appunto in un altro luogo, addirittura in un'altra nazione, in un'altra città, un po' lontano da te, però questa è una separazione di guarigione, perché adesso devi prendere il potere in mano, il tuo pieno potere, devi lavorare su di te, l'amore è per te stesso, l'amore è per te stessa, dedicati a te, vai dentro di te, ascolta il tuo cuore, amati, fai le cose che ti danno gioia, gioia, assolutamente questo è un amore guidato dal divino, quindi ci sarà una riunione, voglio dire non è una separazione definitiva, è un momento di separazione temporaneo, anche perché qua c'è la carta della partnership, che può essere sia lavorativa ma anche sentimentale, quindi assolutamente c'è proprio un'unione vicina, ok? Appunto potrebbe essere l'unione d'amore tra te e il tuo partner, come potrebbe essere un'unione lavorativa per alcuni di voi, va bene? È molto importante, dice l'Arcangelo Michele, quindi proteggerti, c'è un momento, cioè sei in una fase di risveglio, di grande transizione nella tua vita, ma è molto importante che tu ora mantieni alte le tue intenzioni, alte nei valori, cerca di allineare quelli che sono i tuoi pensieri, parole ed azioni, non cadere nell'egoismo, non cadere nel giudicare te stesso, te stessa o gli altri, vai avanti nella tua visione della realtà, porta avanti i tuoi messaggi, porta avanti la tua unicità, alcuni di voi sono operatori olistici, operatori di luce, quindi porta avanti a testa alta veramente il tuo lavoro, il tuo operato e vedrai che tutto si allinerà nella tua vita, anche perché se tu vai semini amore, riceverai amore, va bene? Alle volte le sfide nella vita possono essere più o meno intense, ma le sfide servono per raddrizzare la rotta, va bene? Per riportarti nella strada giusta, quindi onde evitare queste cadute, cerca di mantenere appunto intenzioni allineate all'amore, questo porterà nella tua vita leggerezza, questo porterà nella tua vita veramente cose belle nella tua vita, perché qua ti dice aspettati sempre il meglio, fai le cose con leggerezza, con gioia, con aspettative positive, con entusiasmo, con amore, vedrai che l'amore risponde sempre all'amore, ok? Va bene? Per finire volevo anche prendere un messaggino da questo libro, quindi chiedo veramente purificazione, protezione, guarigione, Arcangelo Michele affinché possa arrivare il messaggio più giusto per il maggior numero di persone possibili, grazie e così è, smetti di cercare, dice l'Arcangelo Michele e quando smetti di cercare cominci a rilassarti, a comprendere che non hai la possibilità di cambiare tutto e subito, allora cominci a rilassarti, a respirare, ecco questa è una conferma del messaggio, prendi le cose con leggerezza, ad inquadrare con tranquillità l'essenza del tuo futuro ed è proprio da quel momento che puoi cominciare a cambiare davvero. Bene Anime infinite, per questa settimana abbiamo finito la nostra lettura angelica, volevo ricordarvi che mi occupo anche di fare delle letture con le carte o anche come connessione diretta, ma mi occupo anche di insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele per portare equilibrio nella vostra vita a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove è più bisogno, ok? I corsi inizieranno ad agosto, una classe da massimo 15-16 persone su Zoom, lavoreremo su Zoom per nove settimane, se sei interessato o se sei interessata contattami, poi prossimamente faremo anche il corso sulle connessioni angeliche per imparare a connetterti con gli angeli, con l'Arcangelo Michele e gli angeli della coscienza michaelica, quindi se vuoi maggiori informazioni non esitare a contattarmi, io vi saluto, vi abbraccio, buona settimana a tutti, ciao ciao!